Il caro energia è un fatto eccezionale, la guerra è un fatto eccezionale, la situazione politica italiana e la crisi di governo che c'è in questo momento è un fatto eccezionale, ma tutti questi fatti eccezionali poi si ripercuotono anche sul cittadino e sulle associazioni anche di volontariati che devono garantire certi servizi. Quindi per continuare a fare i servizi che facciamo bisogna che se non vogliamo chiudere qualcuno ci venga incontro. E' questo il grido d'aiuto di Ampas, una tra le più grandi associazioni laiche di volontariato presenti in Italia che sta attraversando le difficoltà comuni a molte associazioni del terzo settore impegnate nell'assistenza e nel soccorso alla persona. Io credo che sia giunto il momento di riformare un pochino tutto il modello sistema emergenza-urgenza dove noi siamo inseriti come associazioni, come volontariato. Quello che io chiamo il sistema RST, riforme, servizi e territorio. Noi siamo sul territorio e il territorio è quello che praticamente fa la differenza. Fa la differenza in tutto e bisognerà che una riforma tenga presente quello che è l'emergenza-urgenza nel territorio. E siccome noi siamo terzo settore, per la legge 117 noi siamo delegati e per questo che io lo richiamo questo punto con forza, alla coprogettazione e la coprogrammazione. Cioè, vado a dire, vogliamo essere ascoltati, vogliamo essere anche noi protagonisti e vogliamo essere ascoltati di più di come è andato fino ad oggi dalle istituzioni e gestire e non subire le riforme di cui parlavo prima. Voi chiedete anche di fare rete. Ci sarà un incontro organizzato proprio da Ampas per parlare di tutto questo? Sì, questo è un convegno che si pensa di organizzare qui ad Arezzo proprio per mettere i puntini sulle i delle cose di cui ho detto prima. Anche se, a onor del vero, devo dire che un tavolo istituzionale a livello regionale esiste già per la legge 40. È presieduto in questo momento dall'assessore Bezzini. Eugenio Gianni, che è presidente della regione, è sempre venuto ai nostri congressi, ci ha sempre sostenuto, quindi conosce molto bene le problematiche. che sono problemi che, come ho detto prima, sono dovuti anche a fattori extra per cui sono fatti eccezionali che ci sono piovuti addosso sui quali si può intervenire fino a un certo punto. Però, indubbiamente, non può essere scaricato tutto addosso a noi perché noi non siamo più in grado di andare avanti in questa situazione.